Da un'indagine commissionata dal Sole 24 Ore è scaturito che come sindaco è in ascesa, è salito a posizioni veramente molto interessanti. Come spiega questo gradimento, questo forte gradimento in continua salita da parte dei viterbesi? Innanzitutto uno potrebbe dire banalmente o so bravo io o so scemi di viterbesi. Dato che sono convinto che i viterbesi non sono scemi e quindi la conseguenza credo sia abbastanza ovvia. Non è il risultato di oggi il risultato importante che i viterbesi attribuiscono alla mia persona, con grande bontà. È il risultato che da 15 anni i viterbesi mi attribuiscono, perché non dimentico i risultati di quando ero Presidente della provincia che naturalmente in un contesto così ampio avevo un ottimo consenso. Me lo hanno tributato alle elezioni da sindaco, oggi avendo subito delle conseguenze impreviste a cui ho detto tranquillamente che se se l'avessi saputo che dovevo subire queste conseguenze e molto probabilmente ci avrei pensato tre volte a candidarmi a sindaco, perché non è che uno ha il desiderio del sacrificio. Noi in tre anni e mezzo di mandato incontrai il Ministro Fitto, incontrai, mi chiese un incontro il Ministro Fitto per chiarire quali erano le posizioni della finanziaria sugli enti locali e ci disse all'inizio del mandato che avrebbero tolto il 10% nei prossimi tre anni, quindi 3.3% all'anno e uno pensava che era finita. I tre anni sono passati, sono stati tolto il 10% di risorse ai comuni, poi si è arrivati a una finanziaria di agosto-settembre e poi c'è voluto Monti per definire ancora giù sotto ai comuni. Logicamente naturalmente quando tu vai a diminuire in una città come questa, come quella di Terbo, diminuire oltre il 10% ma vai a sfondare quasi il 20% di risorse in meno, dico che logicamente ai cittadini qualche cosa devi dar conto. Se questo è il risultato, ho fatto capire che stavo in difficoltà e che i cittadini nella difficoltà hanno avuto un atteggiamento favorevole comprendendo che ci sono difficoltà ma che le stiamo tentando risolvere con serietà. Questo è quello che spero che sia passato.